cari amici buongiorno e ben ritrovati a belli dentro belli fuori vi annuncio subito gli argomenti della puntata di oggi inizieremo a parlare della cura dei nostri capelli continueremo poi nella seconda parte del talk ad occuparci di diverticolite come si manifesta e come contrastarla non mancheranno le nostre rubriche sull'alimentazione e sullo sport tante sono le domande che faremo ai nostri ospiti e quindi non mi resta che raggiungere margherita debacca nel nostro salotto del benessere nel frattempo riepiloghiamo gli argomenti in grafica buongiorno professore alfredo rossi oggi parliamo di un argomento che lei conosce benissimo ma non la maggior parte di noi la tricologia cioè la specialità che riguarda le unghie e soprattutto i capelli i capelli voi avete un ambulatorio al poliglinico umberto primo che cosa fate e soprattutto l'invecchiamento dei capelli si può prevenire allora noi nel nostro ambulatorio affrontiamo quelle che sono le patologie più gravi del cuoio capelluto come le malattie cicatriziali l'alopecia è quando perdiamo i capelli quando perdiamo i capelli è un termine improprio perché per l'alopecia vuol dire perdere la totalità dei capelli noi diciamo alopecia anche per i semplici diradamenti per cui ormai è entrato nel gergo comune parlare di alopecia e parleremo di alopecia per quanto riguarda l'invecchiamento si può prevenire si può fare la stessa cosa che facciamo con la cute si può fare la biostimolazione si può cercare di far vivere un po' meglio questi capelli perché creiamo un homing dove è immerso il follicolo migliore e quindi a questo punto qualcosa per prevenire l'invecchiamento si può fare. Ecco all'opecia che interessa il 50% degli uomini dopo i 50 anni giusto ma anche le donne dopo la menopausa? Nell'androgenetica succede questo che è la forma più diffusa. Che è la calvizie comune per intendersi. Ne sono affetti il 50% dei maschi a 50 anni ma questo sale progressivamente con l'età per cui si arriva fino all'80-90%. Nelle donne si dopo la menopausa si può avere un crollo e quindi la percentuale aumenta si va dal 40 al 50%. E quindi la differenza tra uomo e donna è proprio questa che la donna subisce la caduta dei capelli dopo la menopausa quando calano gli estrogeni. Non è proprio così perché se si parla di alopecia androgenetica pura è una condizione geneticamente determinata legata non agli ormoni legata a questioni recettoriali e quindi si ci nasce. Che vuol dire recettoriali? Vuol dire che quella donna ha una predisposizione maggiore a fare come nel maschio. E poi in menopausa si ha questo aumento relativo degli ormoni androgeni che crea questa alterazione. Chi è predisposto, chi ha pochi capelli si vedrà molto di più, chi ha molti capelli si vedrà molto di più. Senta ma ci sono i periodi che noi parliamo di periodo delle castagne, no? Quando perdiamo più capelli è una leggenda oppure è proprio così? No, non è una leggenda. Bisogna capire che il capello, il follicolo va incontro a tantissimi stimoli esterni e interni. Eterni, abbiamo detto, possono essere gli androgeni ma per quanto riguarda gli esterni la luce ad esempio è importante, il tempo di insolazione, la temperatura, questo cambia a lunga o al corcio al ciclo del pelo. E quindi in questi due periodi dove c'è il cambiamento climatico e soprattutto l'insolazione è ovvio che i capelli soffrono. Un po' quello che succede negli animali, no? La muta. Se siamo nella fase estiva perdono il pelo e poi nella fase invernale lo rimettono. Professore, ma a proposito di caduta dei capelli, come riusciamo a renderci conto che non si tratta di un fenomeno naturale o comunque fisiologico ma che c'è dell'altro e quindi dobbiamo rivolgerci a uno specialista. La prima cosa che deve mettere in allarme il paziente o quello che lo diventerà, deve quantificare la caduta dei capelli oppure vedere i capelli, ecco, incominciare a vedere i capelli sul cuscino la mattina nel bagno oppure lamentarsi di vedere perdere i capelli mentre si cucina, questa è una cosa molto frequente nelle donne e allora lì bisogna incominciare ad avere un po' il presentimento che bisogna andare da uno specialista. Invece ricorrere a lozioni, integratori oppure sciampi specifici, questo può aiutare? Può aiutare se queste cose vengono date da un medico competente, dal psicologo. Mi scusi, lavaggi frequenti invece oppure lo stesso utilizzo del phon, io ad esempio Adesso l'uso di prodotti sbagliati possono influire sulla salute dei capelli? Sui lavaggi frequenti vi dico subito no, è una leggenda, metodo lontano, io lavo i capelli tutti i giorni e i giorni, anzi. La temperatura del phon? Ecco, come tutte le cose deve essere usato in modo congruo, se io mi metto col phon e brucio i capelli, anche perché il capello lo dobbiamo intendere come la lana, come il nostro maglione di cashmere, se io metto il nostro maglione di cashmere al sole e lo faccio asciugare o lo lavo a 90 gradi, cosa diventa? E la stessa cosa va incontro il capello, è una proteina sì che è idratata ma bisogna poi mantenerla questa idratazione, se lo disidratiamo abbiamo i capelli con le doppie punte, con le alterazioni, si spezzano. Quando fare la prima visita? Cioè la prima visita, il primo controllo dei capelli? Allora io direi, per chi ha una familiarità di alopecia androgenetica, fare... Cioè in famiglia un padre o un altro? Ah, qualcuno che ha parecchio, i nonni, nonno materno più che nonno paterno, padre, sì, quindi quante più persone ci sono che hanno perso i capelli, fare una prima visita, secondo me un'età congrua è intorno ai 16 anni, 16-18 anni perché poi quello è il momento in cui si potrebbe cominciare a fare veramente una prevenzione e si può fare perché oggi abbiamo i farmaci per farlo. Poi dopo non è che non si può curare, si può curare ma è logico che fare una prevenzione significa mantenere l'assetto dei capelli con cui si è partiti. Apro una piccolissima parentesi sul trapianto dei capelli, perché adesso va così di moda rivolgersi all'estero? Non abbiamo noi centri adatti per fare questo? Ma come no? No, noi abbiamo tantissimi centri adatti con chirurghi bravissimi, il problema è una questione di soldi, andare all'estero costa molto poco, lo sappiamo benissimo come succede per l'odontiatria, come succede per la chirurgia plastica, anche per i capelli è accaduta la stessa cosa, ci sono strutture organizzatissime a fare questo con pochi soldi ma si va in paesi in cui tutto costa meno e quindi anche la possibilità, qui una sala operatoria costa moltissimo, lì non costa nulla. Però in Italia ci sono i centri pubblici pure che possono assicurare queste cure, pochi ma ci sono. Purtroppo per quanto riguarda l'autotrapianto ancora no, si fa solo… Autotrapianto significa che si prendono i propri capelli e si inseriscono in un altro l'autotrapianto viene fatto nel pubblico quando ci sono delle patologie importate, ad esempio dopo ostioni, quindi viene fatto dopo una malattia per ricostruire, ecco quello fa parte della chirurgia plastica ricostruttiva, per l'estetica ancora non ci siamo attrezzati. Ma quali altri cure ci sono per non arrivare al trapianto, parliamo di cure efficaci, lei parlava di farmaci oppure… No, no, farmaci. Allora, oggi si conosce bene qual è la patogenesi, perché il follicolo si miniaturizza oppure si perde e quindi si va con una serie di farmaci… Senta, un diradamento dei capelli deve sempre metterci in allerta o può essere un fenomeno temporaneo, passeggero legato allo stress per esempio, ad un periodo difficile? Allora, un diradamento deve farci pensare, dobbiamo avere un atteggiamento attendistico perché ovviamente anche dopo la caduta stagionale si ha un diradamento perché dobbiamo aspettare che i capelli piccoli li crescano e diano quel volume che si è perso con la perdita dei capelli lunghi, quei capelli che avevamo, quindi questa cosa deve farci capire che ci sono momenti in cui questo può migliorare da solo, quindi fisiologicamente, ma se il fenomeno persiste oltre i tre mesi, quattro mesi, addirittura sei mesi, allora lì ci dobbiamo preoccupare e andare dal tricologo. Professore, prima di raggiungere il nostro angolo della nutrizione, volevo chiederle, professore, quanto idratazione e l'alimentazione stessa influiscono sulla salute dei nostri capelli? Beh, possono influire tanto perché ci sono degli alimenti notoriamente infiammatori, non abbiamo fatto un piccolo preambolo, il cuoio capelluto è una parte della nostra cute, rivestita dai capelli, però come la cute può andare incontro a patologie come la psoriasi, la dermatite seborroica, altre condizioni, non le possiamo vedere perché sono coperte dal cuoio capelluto, quindi un'alimentazione appropriata riduce la possibilità di queste condizioni che sono molto più frequenti di quello che noi pensiamo, perché con la possibilità di utilizzare queste metodologie, questo microscopio, possiamo individuare persone che non sanno di avere la psoriasi, ad esempio, e quindi possiamo, dobbiamo modulare anche questa cosa e l'alimentazione è una cosa che serve, come servono le vitamine, come servono gli integratori, come servono tante altre cose. Allora io vado proprio a parlare di corretta alimentazione, la lascio con Margherita per la nostra ultima domanda. Allora le ultime domande sono le più interessanti, si può arrestare l'imbiancamento dei capelli? Purtroppo no, ci stanno studiando tantissimi, tantissimi ci stanno studiando, qualcosa si è riuscita a fare con dei farmaci che servono per un'altra malattia, però ancora oggi siamo lontani da questa cosa. E un'altra domanda, andiamo verso l'estate, quindi è un periodo difficile per i nostri capelli che vengono esposti a raggi solari fortissimi, come proteggerci e soprattutto dobbiamo proteggerci? Certo, bisogna proteggerci, l'unica protezione per i capelli è il cappello. È il cappello. È il cappello, la bandana, tutto il resto può servire, ad esempio utilizzare gli antiossidanti, può servire non solo ai capelli, ma anche prodotti sui capelli di protezione per idratare il capello, perché come la cute si disidrata al sole, anche il capello con la salsedine, proteggerlo dalla salsedine, anche questo potrebbe essere a vantaggio di cosa, però sempre del capello, il follicolo sta lì, sta bene all'interno. Ma al sole, alla luce del sole, troppo a lungo il bulbo pilifero ne viene a soffrire? Sì, può soffrire, ne può soffrire perché soprattutto quando ci sono quei diradamenti dove il sole può arrivare sulla cute direttamente, può andare a far soffrire quei follicoli che sono un po' più piccoli, un po' più superficiali. Alfredo, allora per concludere, il bulbo pilifero d'estate va protetto? Va protetto, vanno protetti i capelli e va protetto il bulbo pilifero perché la possibilità... Si secca? No, si secca. Lo stress ossidativo a livello della cute può danneggiare i follicoli, quelli soprattutto più piccoli. Per quanto riguarda il capello è logico, va incontro ovviamente a processi anche di essiccazione proprio perché il sole fa evaporare l'acqua che è all'interno, quindi bisogna proteggere. Allora, grazie per essere stato qui, il nostro messaggio è che quest'estate mettetevi cappello e bandana. Gabriele, buongiorno, ben ritrovato a belli dentro e a belli fuori. Oggi ti porto a fare un giro in Oriente, lo sapevi? No. E allora te lo dico io, vedi che ci sono tante belle spezie qui davanti che noi utilizziamo anche nella nostra cucina, ma vogliamo iniziare subito col dire che sono o non sono ipocaloriche? In realtà le spezie, un utilizzo di spezie è un utilizzo limitato a qualche grammo. Difficilmente si pensa alle kilocalorie vincolate alle spezie stesse, perché è difficile pensare di assumere 60, 50 o 100 grammi di una spezia all'interno del piatto. Mediamente però, se vogliamo dare dei numeri, 100 grammi di spezie equivalgono a circa 260 kilocalorie. Non ti ho fatto, caro Gabriele, questa domanda a caso, perché molti dicono che le spezie fanno dimagrire. Ad esempio mi viene in mente la curcuma, mi viene in mente lo zenzero, magari me ne aggiungi anche più continuamente. Il peperoncino con la capsaicina. Quindi è vero? In realtà vengono erroneamente ricondotte alcune spezie a dei termogenici. Termogenici cosa significa? Sappiamo infatti che ci sono degli elementi che possono accelerare alcuni processi metabolici generando calore. Quindi si presuppone che l'incremento del calore dovuto al metabolismo degli elementi ingeriti possa bruciare più kilocalorie. Sappiamo anche ad oggi che non ci sono studi scientifici di rilievo che possono confermare questo. Quindi la spezia di per sé è un potente antiossidante, fa molto bene, ma che faccia dimagrire non ci sono degli studi reali. E invece preparare cibo utilizzando le spezie può attenuare l'appetito? Sicuramente appaga, l'utilizzo delle spezie appaga molto, il che significa che può generare endorfina o serotonina dopo il pasto e quindi sentendomi più appagato inevitabilmente sento meno la necessità di dover prendere altro cibo che mi possa avvicinare alla completa sazietà. Quindi tra un piatto speziato e uno non speziato dovrei sentirmi più sazia mangiando quello speziato. Sicuramente più appagata. Più appagata. E l'uso invece può avere qualche controindicazione, l'uso o meglio l'abuso? In generale è una domanda molto interessante perché poche volte viene posta. La spezia può essere in alcune condizioni controindicata. Faccio l'esempio più classico. Mi trovo davanti una donna, una neomamma che sta allattando. Se non durante la gravidanza abituata ad assumere delle spezie, se comincia ad assumerle dopo il parto e allatta il piccolino, l'utilizzo delle spezie potrebbe alterare il gusto del latte e renderlo poco gradevole. Sì, questo l'avevano detto anche a me, confermo, me l'avevano detto quando aspettavo i miei bimbi. Dobbiamo preferire le spezie fresche o quelle in polvere? In realtà sono entrambe di ottima qualità. Le spezie fresche sono comunemente nostrane, definiamole del Mediterraneo, quindi posso prendere l'alloro, posso prendere il rosmarino, il timo, l'origano. Ci sono invece delle spezie un pochino più arabe che invece necessitano di una lavorazione precedente ed è opportuno essiccarle prima. Faccio un esempio a quello della paprika o quello dello zenzero essiccato. Grazie Gabriele. Ritorniamo dal nostro viaggio in Oriente a Belli Dentro e Belli Fuori. Con te ci rivediamo sabato prossimo. Un saluto a tutti. E con voi invece subito dopo la pubblicità. Bentornati a Belli Dentro e Belli Fuori. Come vi avevo anticipato nel nostro sommario, parliamo ora di diverticolite con il nostro prossimo ospite Margherita a telepresentazioni. Da Napoli ci ha raggiunto Francesco Corcione, che è chirurgo della Federico II, della città più bella d'Italia, aggiungo io. Grazie. E esperto in chirurgia mini-invasiva. Innanzitutto, Francesco, facciamo subito una differenzazione fra diverticolite e diverticolosi perché io non imparerò mai. Allora, parliamo di malattia diverticolare. Innanzitutto, i diverticoli sono una malattia dell'ultima parte dell'intestino. Sì. Allora, voglio chiarire che se noi parliamo di malattia diverticolare, inglobiamo in questo vocabolo tutta la patologia connessa ai diverticoli del colon. Che sono delle tasche. Esatto. La gente mi chiede spesso ma che cosa sono questi diverticoli? Pur soffrendo non sanno esattamente che cosa sono. Sono delle sacche, sono delle estroflessioni sacciformi, del colon prevalentemente sinistro, ma possono subentrare anche a destra. E io per spiegare uso un esempio molto semplice, ma molto efficace. Se noi prendiamo una ruota di una bicicletta, in cui c'è una struttura di gomma solida e una camera d'aria all'interno, se per puro caso questa struttura solida esterna viene deteriorata, viene bucata, la camera d'aria esce. Esce e la vediamo. Esce e quindi è esposta a qualsiasi rischio di rottura. Come i diverticoli. E questa ruota inglobata nell'intestino significa che tutto questo materiale che fuoriesce crea dei problemi? Ecco, ritornando all'intestino, la ruota gommosa sarebbe la parete del colon, che per fattori genetici, per fattori alimentari, per condotte di vita irregolari, si deteriora e si rompe. E la mucosa esce attraverso questi orifizi e forma questa sacca. Questa sacca, sono chiaramente tante sacche che si formano lungo il sigma, può andare incontro a vari processi evolutivi. E a volte vanno tolte, a volte si possono curare coi farmaci. Ecco, questa è una bella domanda. Infiammazione. Questa è una bella domanda, perché noi col termine di malattia diverticolare inglobiamo tutto quello che riguarda la patologia diverticolare. A quella praticamente asintomatica, che viene scoperta soltanto con indagini occasionali, a quella più grave, che viene scoperta un pronto soccorso con una peritonite stercoracea. Scusa, io ti ho chiesto prima diverticolite e diverticolosi. La diverticolite è questa, è un'infiammazione che porta all'estroflessione, no? No, la diverticolosi è la patologia cronica, che si può instaurare in modo anche asintomatico. La diverticolite è la complicanza della diverticolosi. Cioè un bel giorno questi diverticoli, che abbiamo detto come si formano, si possono infiammare. E lì c'è tutto un grading di infiammazione, dalla semplice diverticolite alla diverticolite complicata, fino a diventare peritonite. Comunque viene chiamata malattia del benessere, ed è molto frequente rispetto ad anni fa, è vero? Sì, è verità. Hai centrato un problema molto importante. Questa è diventata una patologia sociale. È considerata la sesta malattia gastroenterologica più diffusa in tutto il mondo industrializzato, quindi Stati Uniti e Europa prevalentemente, ed è legata proprio all'alimentazione che noi da sempre svolgiamo. È chiaro che è una patologia che ha un costo sociale. In Italia è stato calcolato che mediamente in un anno vengono spesi 63 milioni di euro per il trattamento della diverticolosi e delle diverticolite complicate. E oggi l'incidenza è in netto aumento, anche nei giovani, perché i dati Istat italiani recitano che dieci anni fa era colpito l'1,8%, oggi siamo al 3,8%. In dieci anni è più che raddoppiato il numero delle persone affette da questa patologia. Più uomini o più donne? Più uomini purtroppo. Perché mangiano peggio. Esattamente, perché è molto legata all'alimentazione, soprattutto all'obesità, agli stili di vita. Cosa vuol dire, professore, è legata all'alimentazione? C'è un'alimentazione sbagliata? Prima abbiamo parlato con il nostro nutrizionista di spezie. Ad esempio, una persona che soffre di diverticolite può mangiare speziato? È sconsigliato sia mangiare speziato, sia mangiare frutta secca, tutti i cibi che fermentano, sia bere bibide cassate, perché ritornando al concetto della camera d'aria esposta, se noi gonfiamo questa camera d'aria è più facile che questa si rompe. Quindi dobbiamo evitare i cibi che fermentano all'interno dell'intestino. E quando il soggetto scopre di avere una diverticolose, una diverticolite, si staura sempre un trattamento alimentare e medico, inizialmente. Ma io dico sempre, non c'è mai una vera connessione. Cioè, non siamo mai certi che una sana dieta e una terapia medica preventiva possa evitare una complicanza. Quindi io aggiungo sempre, se vuoi evitare la complicanza, se ci credi, resci dall'Ave Maria la mattina. Professore, ritorniamo subito dopo questo consiglio per voi. Professore, abbiamo parlato di alimentazione, invece lo sport può aiutare nella prevenzione? Sicuramente. È dimostrato che una sana attività sportiva riduce l'incidenza di complicanze e questo può essere legato al fatto che facendo sport si attivano i movimenti peristaltici dell'intestino. Più difficilmente, quindi, c'è possibilità che possano perforarsi o complicarsi queste sacche di verticolari. E parlando di sport, non poteva mancare la nostra rubrica. Insieme alla personal trainer Daniela Mascia vediamo degli esercizi sulla gag, e cioè margherita, gambe, addominali e glutei. Buongiorno Daniela, ben ritrovata. Buongiorno Eleonora. Allora, oggi parliamo di gag. Che cosa significa? Vuol dire glutei, addominali, gambe. Quindi vedremo adesso tre esercizi, poi se ne possono fare tantissimi ovviamente, per questi tre distretti corpori. Ok, allora siamo pronte con il primo. Iniziamo con il primo. Faremo adesso uno squat e un affondo insieme, quindi squat e subito in affondo. Ok, squat e affondo. Sempre otto e otto o dieci, dieci. Quanti riusciamo a farne? Adesso per il secondo esercizio andiamo a terra e faremo degli addominali, come abbiamo detto gag, glutei, addominali, gambe. E anche qui faremo sia il crunch frontale che quello con torsione. Ci sdraiamo. Crunch frontale e anche a contorsione. Come abbiamo già visto. Sono curiosa di vederlo. Esatto. Quindi piego le ginocchia, i piedi sotto le ginocchia, attivo l'addome, salgo in crunch. Il secondo vado subito in torsione. Torno frontale e ruoto dall'altro lato. È importante la respirazione e dobbiamo anche fare attenzione alla nostra schiena. Esatto. Andiamo adesso con l'esercizio sulle gambe. Guarda, ci mettiamo l'elastico, facciamo un esercizio per gli abduttori. Dallo blu, anzi azzurro. Esatto. La parte esterna della gamba, gli abduttori. Ci sdraiamo su un fianco, appoggio bene il braccio, fletto la gamba che sta a terra, l'altra la lascio distesa. posso mettere la mano anche sul pavimento qui a terra, salgo in linea con il bacino, scendo il ginocchio, vai in basso e avanti, quindi devo arrivare in linea con l'ombelico, con la gamba e col tallone spingo in alto. Quindi scendo e spingo. La tua gamba sinistra deve essere leggermente piegata, giusto? Sì, sì, quella che sta a terra la fletto leggermente. Quindi in questo caso la mia destra. Esatto. Ok. Ora vai completamente giù, distendi questa gamba, salgo, un movimento in diagonale e spingo verso l'alto e distendo completamente la gamba. Esatto, e lo ripetiamo poi dall'altro lato. Grazie Daniela, ci rivediamo sabato prossimo. Grazie a te Leonora. Per altri nuovi esercizi. Professore, continuando a parlare di diverticolite, come facciamo a capire che in realtà c'è un'infiammazione in corso? Ma si capisce dal sintomo principale che è il dolore, perché il paziente che ha una diverticolite in atto ha come primo segnale un dolore che probabilmente più delle volte è anche insopportabile, dipende dall'entità della diverticolite e qualche volta lo porta direttamente a un pronto soccorso perché è un dolore che non regredisce con l'assunzione di antispastici o antidolorifici. Dolore che è localizzato quasi sempre nel basso ventre e che è sempre associato a altri sintomi caratteristici come vomito, febbre o febbricola, a volte anche febbroni con brividi scotenti, qualche volta anche con disturbi urinari. Quindi è una sintomatologia molto eclatante. Ce ne accorgiamo sicuramente. Non può passare inosservabile. E quindi quando arrivano le coliche significa che la strada verso l'operazione è segnata? Beh, non esattamente. Nel senso che dipende molto dall'età del paziente perché è chiaro che un soggetto giovane è più motivato verso una soluzione chirurgica. Un soggetto anziano potrebbe andare avanti con la dieta e con la terapia medica. Però c'è da aggiungere che oggi, siccome questa patologia, come dicevo prima, colpisce sempre di più l'età giovanile, sempre più persone si sottopongono all'intervento chirurgico. Che oggi si può fare in endoscopia e quindi in modo più... In laparoscopia. In laparoscopia. Preciso questo perché molti confondono... Ecco, endoscopia, laparoscopia. Io mi confondo sempre. Ecco, molti confondono perché l'endoscopia è quella che entra nel viscere, quindi la coloscopia. Quella è un'endoscopia che fanno gli endoscopisti. La chirurgia laparoscopica invece è una vera chirurgia addominale che è uguale a quella tradizionale con la semplice e grande differenza che il chirurgo invece di inserire le mani in un addome aperto usa degli strumenti miniaturizzati che gli consentono di effettuare in modo ovviamente molto meno invasivo lo stesso intervento di chirurgia tradizionale con tutti i benefici che ormai tutti conoscono. Il chirurgia intensivo non fa ferite, non apre. No, assolutamente. Fa solo dei buchi. Si lavora ad addome chiuso, questo è il grande vantaggio, per cui non c'è dispersione di liquido intestinale, non si toccano le ansie intestinali, si lavora in un ambiente assolutamente sangue. E ci si riprende prima? E questi vantaggi sono tutti nel posto operatorio perché il paziente beneficia di tutta questa tecnologia legata al fatto che lavorando in un ambiente chiuso e diciamo così più avattato, anche il decorso postoperatorio è completamente diverso. Però vorrei aggiungere una cosa. Io sono stato uno dei fautori in Italia della chirurgia laparoscopica, ormai celebriamo i 30 anni di attività. Però un messaggio importante perché tutta questa enfatizzazione della mini-invasività della chirurgia laparoscopica porta molte volte uno sconcerto nel rapporto tra chirurgo e paziente perché il paziente recepisce questa informazione come chirurgia sicura, e senza complicanze. Non è così. La chirurgia fa male sia a pancia aperta sia la laparoscopia. Può far male. Può far male. E dà le stesse complicanze in percentuale ovviamente minime, parliamo del 2-3% a seconda dell'esperienza. Quindi non si deve interpretare la laparoscopica come una scorciatoia, una scorciatoia, ma soltanto come un'alternativa. Bravissima. Professore, parlando invece degli accorgimenti post-intervento, dopo quanto ci possiamo riprendere? Allora, se l'intervento, come nel 98% dei casi, va bene sia con ottime sequele post-operatori, il paziente segue una dieta, diciamo per una quindicina di giorni, una dieta differenziata, e dopo un mese noi autorizziamo a mangiare praticamente tutto. Perché questo? Perché noi quando operiamo, non solo togliamo il tratto incriminato, che è il sigma, ma andiamo a eliminare anche quello che è il passaggio tra sigma e retto, che è un passaggio dove normalmente le feci rallentano, per cui togliendo quel rallentamento, nel post-operatorio, le feci non ristagnando più nel sigma, non hanno possibilità di infiammare la parte del colon restante. E c'è da dire che in questo discorso delle indicazioni che Margherita poneva prima, c'è anche la qualità di vita. Perché oggi il giovane, per me giovane, cinquantenne, sessantenne, che ha coliche ripetute, che ha quindi una qualità di vita scadente, perché questo non lo può mangiare, questo non lo può bere, è più motivato oggi a sottoporsi a un intervento chirurgico, piuttosto che dire l'avemaria ogni giorno, prendere le compresse sette giorni al mese e seguire soprattutto una dieta. E una volta operati, si è a posto, cioè non può tornare la malattia. I risultati sono eccezionali, perché la malattia è proprio del sigma, è rarissimo, proprio veramente rarissimo che possa esserci dei diverticoli lungo il colon, che possono successivamente all'intervento andare incontro a infiammazioni. Allora, grazie Francesco, ti verremo a trovare a Napoli, non per la diverticolità, ma per una pizza, per vedere la città. Purtroppo siamo arrivati al momento dei saluti, la ringrazio. Grazie a voi. Vi ricordo che se volete rivedere l'intervento del professore e anche tutte le altre puntate di Belli Dentro e Belli Fuori, potete andare sul sito di La Sette. E noi ci ritroviamo qui sabato prossimo con Belli Dentro e Belli Fuori. Grazie a tutti.